Ciao ragazzi, benvenuti in live Allora, per un'altra persona singola che lo chiede Il form non è aperto, il form apre nel momento in cui io do il via È sempre stato così, dalla prima form, ma è dalla prima, dalla prima singola Porca miseria Come va ragazzi? Non mi fa mai la gola, devo spegnere il condizionatore Tra l'altro oggi ho una maglietta bianca Eh? Oggi ho una dannata maglietta bianca Oggi non sei vestito di nero, hai visto? Oggi ho una maglietta bianca Tra l'altro è una triple XL questa maglietta Mi sta un po' larga Però d'estate stare vestiti larghi è la cosa più bella del mondo Perché non ti si appiccicano i vestiti addosso e non muori di sudore Megapalle, gigapalle Poldo e trecce? No, basta, basta Basta Allora, news, che cosa vi devo dare? Ah, che domani sera purtroppo non ci sarà live perché suonerò a Padova Quindi se siete di Padova e volete venire a sentirci suonare Suoniamo al Grindhouse E... Sium Fine Ciao Fede, grazie del secondo mese Bentornato Allora, stasera abbiamo un bel contenutino Però a me fa male la gola, porca miseria Non so per quale motivo Sarà che oggi sono stato tutto il giorno in silenzio Allora, fatemi mettere qua l'OST Prima di aprire il form, spieghiamo un attimino per le persone che non sanno come funziona Di che cosa si tratta Allora, innanzitutto lo trovate sia pinnato in chat Che... Scrivendo punto esclamativo form In chat E andiamo a spiegare un attimino qual è il form Che non è ancora aperto Ok Innanzitutto non trollare Primo discorso Perché, raga, oggi non è giornata di troll Non è molto divertente Inoltre non mandare immagini che non c'entrano A tenersi al tema Ma soprattutto l'ho scritto anche qua Va bene Sia il lock screen Che l'home screen Tranquillamente Uno dei due va benissimo Decidete quale dei due mandarmi E... Inoltre fate uno screen Non dovete proprio mandarmi l'immagine Fate uno screen della home o altro Poldo è triggerato No, non sono triggerato È che per rispondere alla chat con poco IQ Ci vuole questo... Questo atteggiamento Se no non funziona Ah, no, non stiamo parlando di Berlusconi No, no Non stiamo parlando di Berlusconi Tra l'altro quel fascista continua a scrivermi tutti i giorni Maledizione Che palle L'oggi l'ho dovuto bloccare però Quindi non potrò continuare A leggere che cosa vuole dirmi Blocco schermo va bene Ma ho appena detto va bene O l'home screen o il lock screen Porca miseria E... Fai uno screen Mi raccomando che è la cosa più importante E... Anche se si vedono orologi Notifiche a voi Non frega un cazzo Lo trovate pinnato in chat Grazie ancora A tutti per la sub A questo punto direi Che si può aprire il form Ma è già aperto Nella io La tua famiglia è in pericolo Signori Il form è aperto fra 3 e 2 e 1 Potete iniziare a mandare immagini Mi raccomando E... Oggi non è un giornata di troll Oggi non è giornata di troll Quindi per favore Non fatemi arrabbiare Salve la prima live che vedo Hai visto? Hai visto? Mi dispiace Mi dispiace Veramente un sacco Mi toglierai anche le cuffie Perché mi stanno dando fastidio Ecco Oggi Cuffie less Oggi cuffie less E spero che si senta la musica Devo controllare qua Cuffie less Ciao macco jpeg Grazie per il diciannovesimo mese Boia bro Allora Not accepting responses Accepting responses Perché non va? Non funziona Allora in questo momento Sta accettando risposte Però Wait Proviamo a fare un test Fare un no settings Restore Se cazzo sto facendo Ok ora dovrebbe essere aperto Ora dovrebbe funzionare Ora dovrebbe essere in regola Pa 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 Sì adesso funziona Confermato Allora mi raccomando Oltre a inviare lo screen Che è la cosa più importante Chiaramente C'è anche questa qua Che non è fondamentale rispondere Qua è se volete dare una descrizione Di quello che sta avvenendo Perché capisco che magari Che ne so Vedo una foto di un tizio Non so chi è La mi scrivi Sai questo è mio zio Questo è il mio compagno Capisci È la parte più importante Chiaramente E procediamo Signori Con La Forms Night Di stasera Si inizia Si iniziano a chiacchierare Un po' I vostri Io Non lo so Questa live Me l'avevo tenuta Per un po' Perché ero un po' titubante Avevo paura Potesse essere noioso Però Ho questa enorme impressione Che voi abbiate Degli sfondi Veramente brutti Del telefono Quindi oggi Li andremo a giudicare Roba Weibo Non mi interessa Hai un'app Chiamata Eren Ma quanto cazzo sei Weibo Vabbè Viaggi Ok ok Niente Ti sto spiando il telefono Segnalibri Io non voglio sapere Cosa c'è nei segnalibri Però va bene Però va bene Non mi fa aggiungere il file Don't know why Don't know veramente why Bro Lorenzo Sei noiosissimo Bro Ma sei noiosissimo Bro Ma come fai Essere così noioso Ehi non è corte No lo so Lorenzo Ti voglio bene Però Però è un po' noioso Capisci Cioè bisogna Personalizzarsela La vita Se no Se no Poi è un po' noioso Capisci Ok Sai quella cosa Che più mi fa Fastidio Non è tanto Il fatto che il gatto Sia vabbè E con le bande nere Sopra e sotto È il fatto che hai Le icone del telefono Così grandi Ma che sei un anziano Perché sei un anziano Hai bisogno Del Vabbè Poi hai una sola app Nel telefono Che è PlayGiochi Manco capito Cioè Non ci fai nulla Con l'app PlayGiochi Che cazzo ci fai Ci controi i punteggi Di quali giochi Non c'hai nulla Va bene Va bene Luca Va bene Luca Non so nemmeno se è il tuo gatto Perché non ho nemici Che vuol dire questa frase Weibo Weibo Alert No in realtà ci sta avere Non so che anime sia Questo qua Christian Però No che stavo ragionando Sul È l'aspect radio Di questo Xiaomi Fai vedere il tuo Vabbè Io sono un Weibo Oh Effettivamente Il mio è questo È il mio Sono io Che suono al Venezia Alcora un concerto Mentre dentro È una mia foto Punto Così la gente sa Che sono io Che ho questo telefono Ovviamente mi copro la faccia Così Questa scusa Che ho appena usato Per giustificare Uno sfondo cringe Non Non va bene Ma quanti Weibo No è Pinocchio? No non è Pinocchio Perché ho visto Pinocchio? Manga App Cos'è Manga App? Ma è Android 14 Stock How Che vuol dire Android 14 Stock How? Boh Non so perché ho detto Pinocchio È Berserk questo Per Manga in Scan Ma li prendi legalmente Spero eh Spero proprio che li prendi legalmente Se no mi arrabbio Tu hai una foto di Snoopy Su un caccia Che poi pare in Italia addirittura Giudicare da questo sfondo In questa pianura Bro Ma poi è pure orizzontale Capisci? Non è che è verticale Bro Non so cosa dirti A parte che questa immagine È fortissima Cioè spinge un sacco Però Perché è orizzontale Se hai lo sfondo in verticale Mio Dio Poi do fai un video Dove giochi a N-Stars Basta Ma perché siete tutti Dei cazzo di Otaku? Pure questo Ma che è questo cartone? Mio Dio Comunque no Non credo che giocherò a N-Stars Nemmeno paga Ancora Ma perché Ho una community Di Weibo Ma come funziona? Chi è questo personaggio? Cioè ma guarda che Penso che se Mai ti rapiscono E ti aprono il cellulare Ti lasciano andare Penso Non lo so Tipo ti Tu hai ancora Lo Zenfo no? Perché la versione di Android Dei Google Pixel È pulitissima E l'orologio della lock screen Che hai tu ed esclusivo Del Pixel Non ne ho idea Mi sono appena sbavato Ma dai tutti anime Sono l'unico con l'immagine stock Curf No Devi personalizzartela Mettiti subito Un personaggio di Genshin Impact Ah a proposito ragazzi Cosa importantissima 400.000 iscritti Grazie a tutti Grazie a tutti quanti Per i 400.000 iscritti su YouTube Grazie a tutti Ancora Applausini Perché ce l'abbiamo fatta Ad arrivare ai 400k Applausini Bacini A tutti quanti Mi chiamo Cristo Grazie del settimo mese Poldo tu conosci Alien Gear Affidabile È letteralmente Il tipo che mi ha fatto Il computer In che senso è affidabile Quando concerto a Palermo Non lo so Molto spaventato Di quella città E grazie a Parpolis Cristo Per il sesto mese Poldo sei un cicciobomba Allora intanto Come ti permetti Due è vero Poi No niente Non commenterò ancora Questo sfondo Perché mi sta un po' Lasciando a desiderare Ciao Poldo auguri Per i 400k Tieni il mio screen Ma dovevi descrivere Lo screen Però va bene Oh mio dio Mi voglio uccidere Omino sterilizzato Stilizzato Niente Non è Io Allora Olivia Olivia Scusa Massi Oliva E Che cos'è Che Che cos'è Che cos'è Questa cosa Che cosa È il tuo sfondo Cioè Non c'è Non è nemmeno Verticale Capisci Non lo so Bellissimo Penso è il migliore Ma che font E sono tipo Quelle tastiere Di merda Grazie Bria Per le due Sabre calate Una Blades E una Fede Grazie di cuore Mister Bria Grazie Patato A cosa le devo La mia micetta Oddio Catto posting Ottimo Catto posting Davvero Ottimo Gatto 9 su 10 9 su 10 Ottimo Gatto Veramente Ottimo Gatto Non commenterò Più Non commenterò Più Ottimo Gatto Cazzo mi ricorda Quando abbiamo fatto La live Del Degli animali Domestici Porca miseria Molto Non voglio dire Normi Perché ci sta È un po' È uno sfondo Di macchine Vroom vroom Ciao Fra Lam 4 Grazie del quarto Mese Vedi Fai in Fai in beef Col tuo nickname Madonna bro Allora Ti spiego Se premi Questi due tasti qua Cioè di solito Io ce l'ho qui dietro Tipo Questi qua Se li tieni premuti Tutte e due Ti fa uno screenshot E così puoi mandarmi Proprio lo screenshot Al posto di fare una foto Con un tablet Al telefono Per poi Mandarmela Però Bel doggo Secondo me Gli shiba Sono un po' Overrated Non lo so Credo che Quando si vede uno shiba A priori La gente No Cane più bello del mondo Cioè Ci sono cani migliori Tipo Un cazzo di carlino Però Anche lo shiba È un ottimo cane Forse sono leggermente Sopravvalutati Zitto Che ti piacciono i carlini A te Ma appunto Che cazzo vuoi Era un popolare opinion Zitto Che tu c'hai il pincher No è Gulino Che c'hai il pincher Dannato noob Col suo pincher Scusa non uccidermi Bro Che schifo Ma che cazzo Ma sei scemo Ma tua madre Che ti passa vicino E ti trova sto sfondo Ma 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 no Sono arrivato ora Ciao noob Ma Ma come cazzo Ma Ma no Ma ti Ti buttano Fuori di casa Ti buttano fuori di casa No 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 Questo Questo è grottesco Leccata al telefono Devo toglierlo Prima che i miei iscritti Iniziano a leccare Lo sfondo del telefono Oh Ah Io sono la parte Più Più strana Guarda che faccia Sono Sto cacando addosso Perché Hai le icone Blu Che fastidio Ma poi questo 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 font Dai Lo sfondo è molto Stock Non so da dove venga Però sono Gamers È uno sfondo Da gamers Poldo L'hai mai visto Lo scheletro Di un carlino Non muoiono Per questo Non l'hai mai visto Ciao Fulmines 090 Grazie del prime Bello Benvenuto Vai let's go L'abbiamo appena visto Questo Gamers Io lo sfondo nero Sono noioso Metti il tuo pincher Come sfondo Oh mio dio Questo è bellissimo Peccato che c'è la mia Cosa ha in mano Ha un Cosa ha in mano Per chi ha visto Questa e questa immagine È incredibilmente Bello Questo sfondo Ha il telefono Al 6% Bro Però Ha il telefono Al 6% È un coltello Beh effettivamente Può essere un coltello Ci sta Spero una pistola Una pistola Stupendo Coltello Eh per il meme È il coltello Però Boh Boh I carlini hanno problemi respiratori Questa è la prima cosa Che dicono tutti Quando devono criticare i carlini Eh Eppure tu C'hai C'hai che ne so La varicella E allora ti devo ammazzare Come funziona È normale Che alcune persone Abbiano dei problemi Alcuni cani Abbiano dei problemi Questo non è un motivo Per cui non I carlini sono brutti Ecco va bene Fabbro Coldur Ti sei meritato Il ban dalla chat Dov'è Ban Eh no È lo sfondo Di Ben 10 Va bene Ti sei salvato Ciao Loiuro Grazie del prime Bello Benvenuto Punto esclamativo Telegram Per il gruppo Telegram Beh ti potevi un po' impegnare Mettiamola Mettiamola che un po' Ti potevi impegnare Un po' Un pochino Mi sa che il nubo Non c'è bisogno che lo manda Allora Ciao Pichikaru Bentornato Anche lui È lo stesso di prima Col Samurai Vabbè Sempre roba anime No care Però questi sono quelli Molto aesthetic Tiranno Ehi cosa vuoi No bro Antonio Che cos'è questo sfondo Ma perché ha la ruggine Il logo della Juventus Forse è oro Ehi sono io scemo Però io Le vedo ru Juventus Calcio And rock and rolls Gamings Ciao XXastrojack Grazie del prime Bello No Ai backstreet boys Come 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 sfondo del telefono Molto Figo Molto Figo I mates Molto divertente bro Veramente molto divertente Dove l'hai preso La tiktok Questo È il mio basso Sul mio letto Sta dormendo Ma poi c'è tipo Una sorta di aurea Come se fosse tipo Che tu sei innamorato Di lui Non lo so Ottima Ottima foto Fa una foto Molto È una foto Molto intima È uno sfondo Molto intimo Uno sfondo Molto personale Da questa immagine Riesco a capire Di te Che sei Simpatico Sì bro Ma un attimino Ah ma È una foto del clur Ma un attimino Potevi mettersi Un po' di Un po' di HD Non lo so Questa differenza Tra 144p dietro E davanti Che in 4k È Molto bello La quality Non dirò nulla A riguardo 10 su 10 Veramente 10 su 10 Tu hai un carro armato Come Perché hai un carro armato Come sfondo Del telefono Bro Ma perché proprio Un carro armato No perché ci sta Ci sta Per i carri armati Anche perché io so Che c'è una parte Di internet I classici nerdini Che quando nomini Un carro armato Ti devono dire Ah sì Questo è Pinco pacco pallino Sovietico russo Quello che cazzo è Del 1900 Blah 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 Problemi No no Però cioè Voglio sapere Perché proprio Un carro armato E non che ne so Un gatto O altro Mi piacciono un bot Ah Carri armati Figo Figo Ci sta Stimare i carri armati È bello Questo fa Schifo Non tanto Perché c'è ciccio Eh Ma perché c'è questo Salve qua sotto E poi questo Cosa che non si sa Questo Non lo so Claudio Fa un po' schifo Io valuterei di cambiarlo Vediamo se questo fa schifo Anche questo fa schifo Vedi Questo farà schifo Oh Ma perché il gatto Ha un'aura Tipo sta Che cos'è Lo spirito Che È lo spirito Che si divide No però Bello Ottima posizione Tra l'altro E Non lo so Chill Questo è normale Ma perché avete Tutti il telefono Scarico ragazzi Che cos'è Kenamobile Cos'è Cos'è Kenamobile Tipo Vodafone È un provider Mi suda il seno Ma cosa scrivi Che schifo Cos'è Kenamobile È un operatore What the fuck Non l'ho mai visto Ma Ma questa Ma questa cosa Kenamobile Perfetto Non ne avevo idea Va bene Non lo conoscevo Perdonatemi Io Vodafone Non ho mai fatto altro Al di fuori di Vodafone Se non Iliad Quindi queste cose Sono Però mi ricordo Che il mio Conquilino Aveva un provider Chiamato Spusu Era l'operatore Si chiamava proprio Spusu Non lo so Si chiama Spusu E a me Quanta gente In chat Che usa Spusu Spusu Che ridere Fa troppo ridere Spusu Qualcuno Ha Spusu In chat Io Veri Ah Veri mobile Ok Quello è una Spusu Fa morire Non lo so Spusu Fare qualcosa Cosa di sardo Non lo so Spusu Tu hai la luna E filmora Scaricato Ci sta dai È un video editor Molto chill Mi piacciono Le cameriere Di ferro Ah Di Iron Maiden Perfetto Tra l'altro Il tuo telefono Non può prendere A fuoco Perché è solo Uno sfondo Però io Stare attento Poster Far made Di Baby Driver Film del 2017 Ah Cazzo Baby Driver Filmone Ci sta Chill Mi da un po' Fastidio Che sia un po' 144p Rispetto al resto Dell'iPhone Madonna Tra l'altro Io sono uno dei pochi Influencer Che ha un Android Dovete rispettarmi E stimarvi Come vostro Promotore Questo è David Bowie Sotto acidi Ciao Demoniseppi Grazie al terzo mese Tim Spusu Ho detto E grazie a Linda Bisi Per il nono mese Bentornati ragazzi Ragazzi Android Quello che volete Trovate un influencer Subito Ma cosa fai Con gli Android Ma prenditi Iphones Tutti Tutti gli influencer Tutti gli influencer Iphones 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 Io Android Spusu Io sono il vero Rappresentante Della classe lavorativa Android Spusu No Spusu non ce l'ho C'ho Vodafone Però Posso valutare di farmi Spusu Per rappresentare Ancora meglio La nostra causa Ovvero Abolire i dannati Ricchi Che ci infastidiscono Ogni giorno Android Spusu Questa sarà Il nostro motto Android Spusu Il manga più bello Di sempre Spera che sia Berserk Ok Chill È passato Cthulhu What Ok Questo l'abbiamo visto Letteralmente ora Non mi ha schippato Davanti Cos'è sta roba Allora Questa cosa Di mettere gli sfondi animati Può essere figa Però ti consuma La batteria In un modo Allucinante Bro Ti ruba La batteria Proprio Tutorial su come Bruciare la propria Batteria Dai fai vedere il mio Me l'hai mandato Alice Mandamelo Aspetta È vero Lo sfondo di Alice È molto bello Pa 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 Aspetta Me la salvo Pa 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 Davvero Un bello sfondo Alice Oserei Pecere È morta due giorni fa No No Da me questi animali Si chiamano Iaddine No Poverino Guardala Tra l'altro C'è proprio la faccia C'è la faccia Di una persona Di una gallina Che si è rassegnata Alla vita È morta gallina È Laiaddina È È dead Mi dispiace Mi dispiace Sempre io che ho mangiato Dei nuggets Ieri sera No non è vero Non ho mangiato Dei nuggets Questa persona È una gallina Come sfondo Ciò di bimbi Eh vabbè Ho il telefono rotto Perciò ti mando l'immagine È molto bellino Vero Molto chill Molto chill Tra l'altro Tearless Raptor Che sta giocando In questo momento Al gioco del gatto Cthulhu Ok ti sembri Customizzato l'orario Che sta giocando Al gioco del gatto Mi ha bannato Dalla sua chat E io non posso Non posso scrivere Sono oltraggiato Questo sfondo Cioè questa immagine L'ho vista ovunque Non so per quale motivo Spusu Sì spuso Ormai la chat È diventata spuso Un gatto dentro le coperte È il mio Vediamo Potevi scegliere Una foto migliore Però secondo me Il fatto che sia proprio questa Non tanto curata Con delle luci È molto È molto intima Dai Voglio intendere Che sia molto intima Tu indossi Vans Ho indovinato? Le prese delle impostazioni C'erano troppe cose Nella home Ah ok Morocross 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 L'ho presa dall'impostazione Sì ma perché l'hai inviata due volte? Ozio Pera Vai Chi sono questi? Caparezza E i suoi amici Io e mia sorella Una decina di anni fa Avevamo Quattro E un anno Ci sta Ok Foto Foto di famiglia Con la Con la sorella Tra l'altro Wow wow Figo Figo Di solito i fratelli si odiano Caparezza and friends Ti è piaciuto? Ma c'è Albano qui Ma chi l'ha visto? Ma poi da dove arriva Questa foto? C'è questo sfondo Con solo questa cosa Messa qua Molto bello Molto bello Molto 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 bello Ok di nuovo E niente il mio gatto 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 Onestamente 7 su 10 Solo per l'inquadratura Però il gatto da solo È un 9 su 10 Gatto da solo 9 su 10 Foto Un po' L'inquadratura e luci Non mi garbano troppo Però il gatto Ok ho messo il pischer Bravo A parte che Perché stai ascoltando Paperella Gay di SP Giochi Nel 2023 In un mondo dove Il politica ricorre Ormai non permette Questi pezzi In secondo luogo Scheletro A caso Oppure viene da qualche parte Magari era quello di The Wardrobe Non ho visto Ma posso ascoltare Quello che voglio? No fai bene Sto scherzando Ovviamente Stefano Stefano ha Il Stefano non si sa Che cazzo Sto Tante vittorie Boh Vabbè Tante vittorie Io e Piri Amico Alla scoteca Banale ma That's it Cioè avere un telefono Con questa foto Come immagine Tra l'altro tu hai Ho come provider Non hai spuso Troverò qualcuno Che ha spuso Troverò qualcuno Che ha spuso Ciao Leo Bonora Grazie al 14esimo mese Questo è bello Cazzo Cazzo devi metterti La Hai fatto stream elements Col comando spuso Dovevi metterti la gif Bro Eh la mega fin È la mega fin Io sta gif La uso un sacco La mega fin Che c'è lui che muore Che scompare La mega fin Dovevi mettere la gif Animata Bro Grazie Piri ti ama Grande Piri Oh Cthulhu Ma perché sono tutti Fissati con Cthulhu Non è tipo una persona Pericolosa È come avere Come immagine profilo Che ne so Cioè come sfondo Bob Dittatore Clash of Clans Questo sfondo serve Nel caso in cui Non ti ricordi Dove è Clash of Clans Cioè se tipo Non trovi Dove è l'icona Di Clash of Clans Tu ti sei fatto Uno sfondo Con la freccia Per trovarlo Beh E tu sai Come funziona Il tuo cervello L'importante è questo Lo troverò qualcuno Che ha spuso Giuro che lo troverò La mega spuso Che cos'è The Devil Viene È un tarocco Che viene da Stranger Things Mo sarà tipo Yu-Gi-Oh Eccetera eccetera Ok È il protagonista Di The Last of Us È la protagonista Di The Last of Us Per favore Non sbagliamo i pronomi Il tatuaggio Che c'ho nella schiena Niente di più Ma sai che Che figo Nella schiena Una roba del genere Molto bionico Molto figa Come roba Zeb Ci ho messo Un sacco A capire Che questo è Zeb Rock for Rookies E non Zeb 89 Nel momento in cui Tu hai scritto Zeb Nella mia testa C'era Zeb 89 L'ho aperto Ho detto Chi è Non è Non è Zeb Poi ho capito Che è un altro Zeb A cui ti stai Riferendo Va bene Molto bello In realtà lo sfondo Funziona insieme a quello Dell'home del telefono Però ok Non ho capito Però va bene Adventure Time Posting Tra l'altro Mischiato con Naruto Figo 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 Molto figo Non l'ho mai cambiato Vai Bro hai quello standard Dai ma cambialo almeno Due gatti Giorno non sono un furu Sono solo gatti No ci sta Ci sta Ma perché avete tutti Il tablet Maledizione Ma perché comprate i tablet Amo i furetti Bro Basato siamo i furetti Potevi metterla tipo Full screen Ma ci sta È una bella foto È una bella foto Molto una bella foto Poldo mi Compre una bruschetta Da gaming Tu hai una tua foto Ci sta Avere le proprie foto Come sfondo Del 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 telefono È importante Tu hai simboli Politici Tremendi Tina Turner Degli AM Che non so chi sono Ah ok Alex Turner Ho letto male Degli AM Chi sono gli AM Sono i Gli Arctic Monkeys Ho capito Tu hai un'intera cartella Chiamata cosplay Perché la musica Si è fermata Aiuto che paura Sembrava tipo una scena Mega drammatica No va bene C'è in realtà Ci sta Sfonde Giapponesi Sfonde Onde volevo dire Però nella parola sfonde È compresa la parola onde Quindi l'ho detta dai Ho paura di Che cazzo è sta roba Cazzo di otaku Ma perché è pieno di otaku Gattito Molto bello Molto bello Gattino che appare di lato Uno spartito Fatto di gatti Questa Canzone Secondo me È circa Non so leggere molto Gli spartiti Però spero Che Io l'abbia letto bene Non lo so Voglio suonarla Secondo me Secondo me si può Progetto a cui Ho un contribuito Dove venivano realizzati Sfondi fighi Su illustrator One of a kind Vediamo che è sta merda Ma che è sto schifo No in realtà È venuto molto bene Per essere fatto da te È venuto molto bene Sembra uno di quelli stock Tanto io per un periodo Avevo Uno sfondo di firewatch Perché mi piaceva da morire Come gioco L'arte di sedia Tra l'altro Poi mi ha Mi ha mosso Facendo schifini Questo è bellissimo Ciao capibara Grazie del tier 1 Questo bro Per ora è il migliore di oggi Lucia È veramente il migliore Me lo metto da parte Così non me lo posso ricordare dopo È veramente bello Non denunciarmi Che hai come Bro Bro Scusami Scusami Tu hai una cartella Chiamata fast food Bro Non è molto salutare Da parte tua Non è molto salutare Da parte tua Fulmini Hai duolingo Games New tv Che vuol dire new tv? Perché hai youtube e twitch Su new tv? Che cosa vuol dire new tv? Disegno figo Vediamo se l'hai fatto tu Ci sta Molto malanconico come sfondo Mi piaceva troppo la foto che avevo fatto con te a piacenza e niente La mia faccia Io ho due facce da foto La prima è questa La seconda è questa No non è vero È perché piango spesso Quindi la seconda non è un'espressione È una Come si dice Una La Il mio comportamento Paperine È pieno di paperini ovunque È pieno di paperini ovunque Sì però mio dio le app messe così Ah è proprio un launcher tutto suo Che ha l'icona così Però è pieno di paperine È pieno di paperine Very walsom Very walsom Miau Bria Che c'ha in forri C'ha in forri Che ti pareva Ti pareva Bria Ma ti pare? Questa persona ha uno dei tatuaggi più brutti che abbia mai visto Con quel rare sopra Chi è? Ma chi è? Eh non lo so Non l'ha scritto quindi non posso sapere È un gatto Bria Grazie per i 100 bit Miau Ecco vedi L'hai chiamato È bellissimo questo Perché YouTube e Twitch sono la nuova televisione per me Ah leggi Aspetta che mi soffio il naso bro Scusate non riuscivo a muovermi Ero bloccato Soffiarsi il naso è importante Questo qua tra l'altro Questo gatto Si chiama Charlie D'Amelio Andiamo avanti Comunque non si chiama davvero Charlie D'Amelio È uno sfondo giapponese Tranquillo Ok Sfondi giapponesi tranquilli È una cosa carina giuro Eccala Che cazzo è Chill ci sta avere un disegno leggermente più Tipo Bad Droned Però ci sta E Album dei fulci come E Magena Profala Come sfondo profilo È un tatuaggio che vorrei farmi Ci stanno In sto periodo tutti hanno Hanno un Hanno una particolare interesse per i Per i bionici Non so per quale motivo È sicuramente il mio sfondo Vai Fammi vedere Va bene Leggit E se veramente il mio sfondo Si lo so Ok Questo è sempre lo stesso Scusate Legge un messaggio Nella cannella La luna è bella Va bene Ok Mi hai caricato di hype Senza motivo Questo è il mio lockstream Molto a random Mi piaceva la tizia Ciopoldo comunque Perché Perché ti piaceva la tizia E basta Non ha una spiegazione No Perfetto Non so cosa sia Però sono quei classici Quei classici sfondi Molto AI generated Però non credo che lo sia Questo qua Sfondi futuristici Molto anonimi Alcuni sfondi Bisogna personalizzarselo Un proprio cellulare Tipo Il logo del nuovo programma Internazionale Per tornare sulla luna Ma come mai? Cioè ti piace Quindi ci sta Cioè dai No almeno apprezzo Chi ha una Una Come dire Una Una passione La mente Boh lo trovo su google E adoro il viola Anche questo È AI generated Oppure è un effetto pennello No mi sa che è solo Un effetto pennello Perfetto Mi piacciono le stelle Gioca a Genshin Impact Da due anni Non ho scusanti No Non va bene bro Non va bene per nulla Non va per nulla bene Roba Accaduto Perché hai queste cose qua? Io ho che paura Mio dio Ciao Lord of Skull Grazie al terzo mese E Intanto grazie al Lord of Skull Per il terzo mese Che ne penso dei furri Mi piacciono Ma questo sfondo Mi piace di più Porca miseria Che bello È un carrello Su un Ma poi non è Non lo so Non capisco L'inquadratura Sembra messo In post produzione È molto profondo Sì Anche questo È molto È molto Intimo È molto Boh Molto intimo Ecco a te La mia stupenda Home del telefono Bro Siamo nel Pride Month È vero Prime Mont Pride Pride Month Quindi Ci sta Ok L'abbiamo visto Andiamo avanti Nessun'è una spiegazione Just idiot Solo questo Idiot You fucking Buffoon Oh mio dio Buffoon è una parola Che esiste davvero Buffoon Oh mio dio è bellissima Buffoon Vuol dire letteralmente Buffone Buffoon È molto figo Però Zelda Dai bro Puoi impegnarti di più Potevi mettere Fast and Furious Scusate che a me Fast and Furious fa troppo ridere come film Non riesco ad apprezzarlo Quindi Oh mio dio Perché ho così solo Poldo che smartphone hai Nonostante tutti Sto notando hanno uno Xiaomi O uno Zenfone Sfondo dei BTS O no Pensavo ci fossero I BTS In copertina Cioè in Catanzaro Sei di Catanzaro Wow Catanzarese Fan dei BTS Porca miseria Uno Shiny Sfondo dei BTS Ok di nuovo Papapapà Hai fatto sbagliare Mezza chat Colpa mia Che cos'è questa cosa Non riesco a decifrarlo Questa è Questa è una testa Ah è un gatto Che sta per lanciare qualcosa A un altro gatto Ok Ora ho capito Ci ho voluto troppo Ok È Eldering A giudicare da questo Signore di Canelli Non mi sembra proprio Se non è una scimmiottatura Ma è Forse più Eldering A giudicare da questo cosino qua sopra Correggetemi Mi chat è Eldering Sia Eldering A posto Ci sono degli spazi vuoti Perché prima c'erano delle foto Che non ho più voglia di mettere Legit Legit Anche questi sfondi molto nomi Il Tokyo Hotel Ti voglio bene Non è vero Non hai Tokyo Hotel Tu hai Tokyo Hotel Come sfondo Tu sei rimasto O rimasto Giorgia Sei rimasta bloccata Al 2012 E' bellissima Questa cosa Vai L'avevo scattata Una mattina appena sveglia E ho trovato E ho trovata Nel letto Il mio cane Fluffy dog Fluffy dog Veramente fluffy dog 9 su 10 Ma adesso L'ho già visto prima Dio bo Atsune Miku Perché hai il fuso orario Di New York Tokyo E Sydney Cioè Non c'è nulla di male Ad averlo Madonna Ma perché sto sbagliando così tanto Però perché Cioè Perché se c'è una spiegazione Per me va bene Ma come mai Forse vive lì Ma allora metti Vabbè Non ha senso Boh Me l'hanno mandato su Whatsapp Posso dire che Ti prego Lo puoi cambiare Non puoi tipo Provare a metterne un altro Non lo so Boh Ma anche un altro Di sì Non lo so Questo mi mette un po' a disagio Mi Mi mette un po' a disagio Ammetto che mi mette solamente un po' a disagio Chi è sto bambino? Non si sa Poldo Piramide Oh Gesù Cos'è come ti fissa? Che poi non sembra nemmeno la mia faccia a momenti Porca miseria Porca miseria Ciao Kia Grazie al sesto mese Fotocalciatori di Milan Tutti drippati In mezzi ubriachi Ma con tutti Io penso che questi sfondi siano peggio di quelli di Genshin Impact In qualche modo Non lo so Io li reputo più Più gravi Ciao Lasagna Axie Grazie del Prime Un gatto con gli stivali irrealistico Ma per quale motivo? Boh ci sta Cioè Ok E' uno Xiaomi questo Non lo so Sembra uno Xiaomi Comunque Si tratta del progetto Il muro di IDAL Per quale ho partecipato Oh mio Dio E' quella roba di Reddit E' r slash Non mi ricordo Perché sto sbagliando così? Perché ho così sonno? Mio Dio Devo farmi un caffè? Era r slash place Ok E' non so se è quello Non è r slash place Ok perfetto Sarà qualcos'altro Però figo Molto figo Ecco sbagliato anch'io Ma stavoggi sto sbagliando troppo Non so per quale motivo Copertina dell'album Ends Justice for All Day Metallica Bro Mi dispiace Sono venuto al concerto a Ravenna Mi sono divertito un botto e nulla Poldo TVB E' una mia foto Che paura Dai sono felice Ti sei divertita comunque Caffettino in live Non è una brutta idea In realtà Farsi un caffettino in live Poldo dove suoni domani? Padova Metal pipe Scusatemi Il mio cervello L'ha totalmente ignorato L'ha visto E ha detto Vabbè Uno sfondo normale Ignorando che sia un cazzo di metal pipe Ho tanto tempo da perdere Per stare al telefono Sono solo come un cane Ci sta Mio Dio Caparezza Sleep note queen Oh mio Dio Oh mio Dio Gatto comunista Bellissimo Ma l'hai scattata tu questa foto? Posa caffè? Devo farmi un caffè ragazzi Se no impazzisco Intanto accendo la macchina Ok Adesso arrivo col caffè Intanto continuiamo È una band del gioco Silly Face Parliamo di qualcosa Intanto No ma sono già tornato Alice San 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 Sanvis Fate Boh Vabbè È una roba che Non ne ho idea Purtroppo Poldo caffè Hai visto? Dragon Ball Scusatevi Dispiace un sacco Non vi arrabbiate con me Napoli Thomas Scusa Poldo Il telefono è rotto Sono al computer Non hai capito cosa dovevi fare Mi sa Letizia È una foto che hai scattato tu? È una tua foto? O È uno sfondo totalmente a caso? Perché Non lo so Vabbè ci sta Anche se è una foto totalmente a caso Sono quelle immagini molto passabili Capito? Non capisco Chi è questa persona Sdrumox No Non si capisce Allora Spiamoti le app Minecraft Hai scaricato Akinator Oh mio Dio Ma per quale motivo Tu hai scaricato Akinator? Ma per quale motivo Hai scaricato Akinator? Questo è il meraviglioso Gara Kazaka Del villaggio della sabbia Personaggio di Naruto Ok ci sta Roba da Weeboo Non posso comprendere io Lascialo stare se vuole Akinator No ma avere Akinator nel 2023 È problematico Berserk Berserk Io ci sono su Akinator Questo è un quadro Molto bello tra l'altro Il mio micio Vai Vado a farmi il caffè Salutate questo micio Mi raccomando Portate gli vostri ossei Grazie a tutti Grazie a tutti lo state ossequiando bene spero di sì sta venendo ossequiato nei migliori dei modi madonna ragazzi io non so come farei a vivere senza il caffè tipo vivrei veramente senza il caffè dite che quello che ho appena detto è una frase errata non esce lo zucchero ok sto uscendo voi quanti bicchieri di zucchero mettete nello zucchero cioè quanti bicchieri di zucchero mettete nel caffè volevo dire perdonatemi pipì tra l'altro per accompagnare questo caffettino delle 21 e 25 pasta di mandorla al gusto di arancia importante noob che regala una sabba smaniax grazie noob e grazie a tom caultiz for life per il prime ciao belli allora proseguiamo con questa lives una fanarte del re baldovino quarto di gerusalemme il re lebroso what? sì ma io voglio capire come mai tu hai una fanarte di re aspetta di re baldovino quarto di gerusalemme il re lebroso ho chiuso google form ho chiuso google form a quale eravamo arrivati raga tipo 128 mi sa l'ho quasi ritrovato 133 133 perfetto grazie erba ciao raffaele leberto grazie del prime e anche a jack matt per il prime ciao belli benvenuti grazie per la sab carissimi sfondo tema manga di doro e doro che suggerisco di leggere l'ho letto ma non mi è piaciuto ficco lo sfondo illustrazione fatta da ozone molto bella non avete idea di quanto questa cosa mi mette in ansia ci sono su aginator what the fuck conosco questa serie e ho capito anche il mega successo che ha fatto e perché però ci sta si che ci sei è uno dei diti medi più brutti che abbiamo mai visto cioè voi tra l'altro voi il dito medio lo fate così 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 o come lui tipo oh mio dio fa malissimo farlo come lo sta facendo lui in questo momento sei stato fan culato guarda tu sei stato fan culato andrex vattene a fattere fare in culo dio mio ragazzi vi dovrebbero togliere la capacità di scrinnare le mie storie un partita un partita poker in classe figo e duolingo chissà perché tutti usano duolingo non ho mai capito è tearless e quella è una mia foto mio dio che paura nooo naruto ok questo caffettino ci voleva oh questo è naruto non so purtroppo ah ma è che mica romance ne era pure un gruppo manca un cartone quindi f è un'immagine di the long gamer perché con te perché con te siete tra i miei youtuber preferiti schermatom quella di blocco è un militare in posizione bella ok figo scena del bacio dall'infanzia di tarkoski minchia e la vabbè io c'ho un poster tra l'altro questa foto in pratica sono i colori di alcune scene di interstellar il mio film preferito bello ok ho capito che tipo di sfondo è tra l'altro è pieno di ogni film di questi sfondi un altro ipad o non immagino a caso purtroppo è coperto da un app ma c'è un gattino alla finestra nello sfondo ah è vero si vede qui questo è abbastanza walsom tra l'altro alcuni lo personalizzano a tal punto che si scaricano un launcher personalizzato e cambiano i colori allora fino a là non ci sono arrivato però quantomeno mettere qualcosa di prima avevo il signore dei anelli come sfondo molto tumblr sono in una relazione a distanza ogni mese cambiamo un sfondo a scelta dall'altra o questo dice trova qualcuno che cresce fino nella parte più buia di te ok figo se hanno un motivo sono ancora più fichi i sfondi cliff non sarei su quell'altro di cosa stai parlando bro cetrioli sono cetrioli spero che siano cetrioli pi ri pi 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 cosa cazzo è sta roba ma poi tutti con uno xiaomi se è uno xiaomi è uno xiaomi? credo sia uno xiaomi non so se è uno xiaomi bro che cos'è? che cos'è? piegamelo che cosa cazzo è? chi è? spuso? ah il signor spuso ecco chi è l'ho messa come lock screen nel 2014 è rimasto lo stesso fino ad ora volpi fico molto fico ti piace? bro ma pure tu ma a parte che hai lo schermo spezzato poi il dino di chrome messo qua lo sfondo cambiato bro ma trattalo meglio il tuo telefono dovevi fare lo screen imbecille compratemi il cd perché sono poverv che stracazzo è? è c'è un trapano cioè l'unica cosa che riesco a vedere è un trapano questo abbiamo visto prima perché hai beppe vesicchio è beppe vesicchio dovrebbe essere beppe vesicchio però sì perché hai beppe vesicchio non è mister spuso era quello di prima mister spuso oh hai l'app della fantapill che cazzo è? quella roba a cui gioca Leo quella roba per nerd di pokemon se è? è quella? molto figo chi è? mister spuso? no è richard mille grande richard mille semplicemente dei distributori di alcolici di vario genere tutti colorati trattati in un negozio di Innsbruck wow che cazzo è? che cos'è? che sono alcolici di vario genere tutti colorati e sembrano sai gli sciroppi tipo quelli alla fragola o altro c'è il singhiozzo sfondo stavo tentando di ricordarmi il nome dello stile ma non mi viene il punto esclamativo spuso che che ma che Cristo è questa cosa questo è sedia che è un fog per caparezza non so definirlo mi dispiace ci ho provato ho provato ad analizzare quello che stavo vedendo però ogni volta che tu sblocchi il telefono tipo fai hai questa reazione fai no i misteri del cosmo nel mio telefono questo questo sfondo basato Leo veramente questo questo dal momento è il vero sfondo basato lo metto lo metto insieme a a questo qua per fare la top 3 di oggi veramente questo sfondo veramente basato ho sentito ho sentito il pianoforte nella mia testa giapponese si che cos'è è un cerbo è una bella canzone ciao p.e.pac grazie a del prime grazie a raffaele e berto per il secondo mese ciao ragazzi happier than ever sfondo motivazionale molto con solo duolingo hai visto sfondo nazi battaglia di anakin e hobby su mustafar bro star wars ci sta figo figo uno dei pochi fan di star wars rimasti al mondo foto che ho fatto io al concerto dei ghost lo scorso mese wow wow ho visto un po' di foto tra l'altro peccato perché c'erano pure i death ss che prima poi questa foto è tipo tu zioco o pesce questo è tu zioco o pesce benvenuti benvenuti a napoli io sarò la tua guida guarda qui questo pesce è un pesce che ho pescato con le mie mani adesso seguimi ti mostrerò come pescare il tuo primo pesce grande purtroppo non prenderai un pescione come quello che ho preso io però comunque ti insegnerò l'arte del pesce molto bello bravo in realtà è un semplice gatto ho bisogno di qualcosa che mi rendesse felice in questo periodo di esami gatti che fanno il cuore rondo rondo giallo rondo se tipo va bene molto bello questa battuta è finita episodi brevi di adventure time ok piano astrale molto figo ho riso tiscali minchia tiscali la maledizione tiscali 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 è veramente veramente da tenere sott'occhio mi piacciono questi colori verde e nero sfondo racer minchia raga devo fare la pipì devo fare la pipì devo fare la pipì questo sono io ma poi sfondo veramente fatto tipo uno screen sono di Gesù Cristo devo fare la pipì devo fare la pipì devo fare la pipì spiderman con le scarpe della Nike sono Zano sei veramente tu Zano oddio ciao mi mi regali soldi dai ti prego un po' di soldi grande Zano grazie per essere passato in live terza versione dipinto il bacio il quadro gatto devo fare la pipì gatto pipì andrò a fare pipì quando troverò un gatto disegno d'autaku giusto il mio disegno ah no allora non è d'autaku fanarte del gioco ori mio dio devo andare in bagno ori and the pink forest blind forest Nike di Samotrosha Samot Nike di Samotrasha molto figo ricordiamo un personaggio caduto è importante avere come sfondo in un personaggio che è caduto credo che sia come nel caso della regina Elisabetta è importante omaggiare i caduti e ci sta che tu hai uno sfondo della regina Elisabetta e adesso anch'io metterò uno sfondo del genere ma soprattutto è importante omaggiare è importante perché grazie ai nostri sfondi del telefono e no dai niente ragazzi la mia gag su Berlusconi è fallita volevo mettermi Berlusconi come sfondo ma ha messo solo la sua mano vedi proprio per dire ragazzi io non me ne vado niente non me lo metto a fuoco vabbè niente mi ha messo solo la mano di Berlusconi adesso avrò come sfondo del telefono la mano di Berlusconi ho la mano di Berlusconi come sfondo va bene non posso nemmeno mettere quello prima pazienza me lo sono meritato diciamo che è questa gag mosca di merda l'ho presa che schifo però che riflessi hai visto ciao EzalbGamer grazie al terzo mese ciao Watership grazie del quarto e anche a FakeMarty per il tier 1 che bravo hai visto no F per Alexi Alexi A Pepe Leo Bonora di nuovo tu mi sai qualcuno sta cambiando sfondo l'ho dal sole ottimo non ho ancora devo fare pipì devo fare pipì di nuovo questo sfondo devo fare pipì oh mio dio perché nessuno manda i suoi gatti devo fare pipì quello era veramente un bello sfondo devo fare pipì dai 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 gatto 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 I love hot deads cosa? perché Whatsapp è scritto con la chiocciola perché Insta è scritto così perché ha ste icone perché la vita in realtà non è un una simulazione stiamo tutti quanti devo fare la pipì perché hai il Ningen messo qua io sono un grande fan dei cryptidi ed è figo che tu abbia il Ningen messo l'osso bello sono molto felice dovevamo i nomosessuali che ballano nient'altro da dire chill è un gatto sì ma era oh di nuovo la regina era un gatto così disegnato ma bellino questo figa come idea figa bella questa pepe devo fare pipì devo fare pipì ok fatta e poi questo è uno sfondo però figa le icone fatte tutte stile pixel non è non è male non è per nulla male sfondo dell'inter oh vedi è qua che veramente capiamo i campioni chi sono veramente i campioni inter e storia di un grande amore come la storia e come inno ecco perfetto devo andarmi a pulire devo andarmi a pulire grazie a tutti grazie a tutti è una storia infinita che dura una vita pazza intera mala vivila questa storia vivila può durare una vita una sola partita pazza intera mala questa è la vera musica è il vero rock l'inter è il vero rock in generale l'inter ha salvato la storia del rock non i maneskin è stato l'inter a salvare la storia del rock lo so che è noioso ma di nuovo bro basta scusate sono andato a fare pipì finalmente l'ho fatta sono andato a fare la pipì che mi meritavo doom slayer figo perché è l'app del powerpoint nulla una mia amica che è totalmente random mi prende il telefono si fa una foto e la mette come sfondo troppa pigrizia per cambiarlo oh mio dio è orribile dio cristo è tremenda aspetta devo abbassare una musica io stavo per dire se vi fate le foto così siete degli imbecilli allora sapete qual è un altro modo di farsi le foto dai imbecilli questa ve la faccio aspetta ok ok ho fatta aspetta ora gli devo mettere il filtro in bianco e nero perché senza filtro in bianco e nero non lo capite questa è tipica foto o da maranzo o da imbecille aspetta devi tagliare mezzi occhi tipo semi così ok filtro ora vi faccio vedere trasforma questo è un altro modo di farsi le foto da stupidi ma in realtà l'ho fatta pure male perché a volte deve essere fatta tipo tipo proprio per far vedere tipo il mascellone tipica foto da maranza tipica foto da ti spacco il muso ora posti su g9 grazie molto bello che cazzo è sta roba i cinesi che fanno le facce da stupidi non mi fanno mi sono sbavato sono un caso perso don't touch my phone mi ha attaccato qualcosa mi è caduto il faro che susseguirsi di eventi strani un susseguirsi di eventi veramente peculiare mi sono sbavato don't touch my phone e mi è caduto un faro in faccia direi che ci siamo don't touch my phone questo va messo qua nella top 3 solamente perché l'effetto cringe fa il giro e diventa diventa incredibile diventa veramente don't touch my phone oh teschi volevo solo dire teschi non è di speciale interessante arriva da un gioco chiamato library of ruin ok però spiegami perché hai installato nel telefono scacchi e scacchi sangue e che cos'è you peep you peep what is this you peep kyle stan kartman e kennedy saltpark bro chi sta parlando chi è ma lo sento giuro che lo sento è in casa mia ecco chi era perché stai ascoltando mister paul dei cugini di campagna molto bello comunque elmo con un elmo se è davvero elmo con un elmo oh mio dio è bellissimo ma manco morto schiez ciao ci penso ti faccio sapere ciao edzalbgamer grazie al terzo mese ciao schiez grazie al ventunesimo mese ciao schiez ti togli quella bambina come immagine profilo di telegram che è mia cugina elmo con un elmo rivole la coperta povero beatlejuice l'altro beatlejuice suonava in una band tipo grink quello che cazzo era shark is love shark is love ancora mancava quello con shark ecco come sfondo elmo con un elmo comunque incredibile oh really fast boy really fast king fast boy molto bello fast boy apprezzato crazy questo è lo sfondo che ti ricorda ogni giorno che sei razzista e dovresti smetterla questo abbiamo visto prima type o negative che cos'è non conosco è lo sfondo predefinito di un tema del telefono che cambia anche delle icone ah ok figo molto molto chill tu sei una persona che ascolta lo fai e poi fa le sparatorie sfondo ancora questo sfondo è bts basta anche tu fai le sparatorie secondo me vediamo se lui fa le sparatorie eppure lui fa le sparatorie guarda come ha fatto le cartelle online con il cuore cos'è sto gioco bro cos'è sto gioco eppure gamers ci sono dei game cos'è questo gioco non è un gamers però a me sembra un gioco è un socials non è un gamers useless pensi che wallet sia useless maps sia useless dovresti rivedere le tue priorità secondo me tu fai le sparatorie non è un grand gamer moving people what is moving people moving people non è moving people non si sa che cos'è school school è un mafioso lui è un mafioso questo è lo sfondo di un mafioso scusa mi dispiace non è vero bro è un normale sfondo di dragon ball però mi faceva ridere l'accostamento si secondo me sei mafioso ci hai fatto un video un po' cos'è kiwi cosa cazzo è kiwi tra l'altro è lo sfondo totalmente nero però ci sta cos'è kiwi tu hai non è male va bene questo l'accetto solo perchè c'è la scritta di supporto spider pazzo vaffanculo spider man ho mandato affanculo un supereroe vedete perchè a volte la società ci da dei falsi eroi fatto da me un po' un po' così e così spider man è un mafioso no spider man non è un mafioso era una medusa quest'opera ad arte creata autore attualmente sconosciuto rappresentano insieme di psedac con pokemon veramente carino molto figo molto figo spider man perchè hai taggato il magus a parte che non c'è in chat starà da sedia secondo me oddio camper cioè lei come tra l'altro con una zucca in testa ienubs grandi la mia cagnolina oddio secondo me questo cane si chiama Hulk è vero? cioè immagina tipo ciao Hulk sei sei molto carino Hulk dove si chiama Hulk? non lo so tanto Hulk è un nome bellissimo chiamerò mio figlio così Hulk Parisi Hulk Hulk però c'è l'Alkogan oh mio dio sei un gatto da prendere a pugni a cazzotti da buttare per terra e iniziare a prendere a calci no no da accarezzare da abbracciare da baciare da riempire di affetto qual è l'opzione giusta? la A o la B? no la A no non è la A smettetela no no la C la C qual è? la C è sparargli non si sparano ai gatti si danno solo affetto ai gatti se non scrivi da Monster Hunter micchia se non scrivi da Monster Hunter pensavo fosse una divinità induista e anche le icone da divinità induista ce l'ho opzione giusta cosa ho cliccato? cosa cazzo ho cliccato? ok ora si vede che che oh mio dio oh oh dio mio oh dio mio don't drink the water non non lo so questo lo schippiamo perché metto un po' a disagio come sfondo da pc non potevo fare uno skin perché c'è le informazioni personali bro che hai nello sfondo del computer? che cazzo di informazioni personali hai? pa 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 opzione giusta A B ragazzi i gatti non si fanno l'abbiamo trovato Dragon Balls quindi c'è qualcuno che effettivamente gli piace Dragon Balls Dragon Balls ancora nessuno ci ha spuso Dragon Balls vedi che Dragon Balls piace a molte persone? screenshot perché me l'hai dovuto caricare così? non ho foto alla divisa di pallavolo di me e una mia amica eh ma il problema è che la devo scaricare è un casino non posso vederla perché la chat ha improvvisamente iniziato a scrivere punti schiamati di nuovo questo mafioso ragazzi Spider-Man è un mafioso dovete smettere di mandarmelo non avete letto Spider-Man numero 412 tu hai in una cartella col cuore l'app della posta Discord, Telegram, Prime Video Vinted e Twitter cioè tutte queste cose cosa già cioè da cosa sono accomunate tipo che che collegamento hanno Twitter e la banca della posta cioè l'app della posta perdonami figo ho visto Wattpad e i Mooney nel 2023 oh mio Dio un'immagine molto bella del mio fumetto preferito Dragon Balls Memevesimo in cosplay di Saw oh mio Dio voglio vederlo potrebbe essere incredibilmente è fatto molto bene molto figo veramente molto bello ci scarichiamo tutti il font di Fortnite da mettere come sfondo è un gatto che si fa la Yakuzie potevi photoshoparlo un pochino meglio però dai va bene anche così poldo guardi Instagram un attimo certo è qui guarda l'ho appena guardato che cos'è questa foto? che cos'è questa foto? va bene tra l'altro secondo me è un fotomontaggio non è vero non sono un poser giuro vediamo cos'è Metallica? Bricks King Plant Net Pixel Shimeji My Boy Free Doodle God Fr Fr Free DS for Android Retro Arc bro tu sei tu sei veramente ricercato per associazione a delinquere secondo me Dragon Ball non so se lo conosce è Kobe Bryant oddio Kobe Kobe mio giocatore di baseball di basketball preferito aaaaaa mio Dio si sta rotolando perché sta dicendo cazzo fammi le cose carine tipo coccolami e cose simili io il mio amicetto io adoro i mici soprattutto quando ti fai un selfie col tuo gatto che il gatto guarda il telefono tipo con una faccia da rincoglioni e intanto ci sei tu là vicino che sorridi il tuo gatto fisserà sempre la telecamera salute e fitness c'è l'app della di hype perché c'è l'app di hype e soprattutto fight list su salute e fitness non si sa bro stavolta hai esagerato tu sei il peggiore chi sei Roberto hai esagerato hai esagerato di gran lunga un mafioso questo questo sfondo profilo di un otaku altro che mafioso cosa c'è di peggio di essere mafiosi un otaku Eminem oh mio Dio che giacca cringe che cazzo è chi è questo qua è salmo probabilmente non lo so oh mio Dio bellissima guardalo quel boy come sta sulla barca sta pescando il suo pesce ma perché pesca il pesce i cari non lo mangiano il pesce sono i gatti che mangiano il pesce bello questo me lo salvo unicredit di Milano fatta alla gita ci sta ci sta unicredit di Milano che figo fare la gita a Milano a me portavano tipo nei paesi che cazzo a me portavano i paesini sperduti della Sicilia brutti in culo questo me l'ho mandato prima sono io che salto con la mia bicicletta da DH che vuol dire da DH da disturbo dell'attenzione avendo il cello e riparazione posso solo descrivere il mio spondoli tra i poldo che di voi è una galletta vabbè in quest'opera creata da un autore sconosciuto sono rappresentati dei cazzi questo l'ho visto già prima a me piace se a te piace lo puoi tenere ma l'ho visto prima tra l'altro questo sto tornando indietro è un personaggio di una serie tv chiamata Soul Goodman se non lo conosci comunque quelli che hanno che sono fissati queste immagini di Soul Goodman sono tutti secondo me la stessa persona tipo di personalità e altro tutti fastidiosissimi Dragon Balls chi è questo tra l'altro Dragon Balls bro ti seguo da una video su YouTube mi hai iniziato a seguire da poco su Twitch perché l'ho mandato due volte porca miseria tre volte addirittura mio Dio lo sai è noioso solo che se metterò così freddi come sfondo mi cacciano di casa con lo sfondo l'ho visto già 12 volte in questa live ci voleva un gattino per farmi calmare ammetto che ci voleva un gattino per farmi calmare scusa però sono sincero e non me ne vergogno Dragon Ball sei tornato indietro no no sta andando avanti Dragon Ball 2 è il mio bellissimo gatto mi chiamo Christian ma non dovevi mandare la foto è il gatto devi mandare la foto dello sfondo comunque è bel gatto basta credo che con questa mi sono dato fastidio allora raga facciamo la top 3 sfondi di oggi allora abbiamo questi 5 1 2 3 4 5 io c'ho anche fatto da sedia Ace Gamer Don't Touch My Phone con elmo con l'elmo questo allora direi che già ne dobbiamo escludere due ovvero il quarto e il quinto al quinto posto io metto questo quinto posto metto questo al quinto posto metto metto il big boy sulla barca metto il big boy sulla barca al quarto posto metto sfondo Ace Gamer sfondo Ace Gamer va al quarto posto ok quindi quinto quarto al terzo posto abbiamo questa abbiamo Poldo eh eh ci sta al secondo posto abbiamo elmo con l'elmo e al primo posto abbiamo Don't Touch My Phone questo è è che così cringe da diventare layerato triplamente layerato e che quindi diventa non lo so io non so se c'è in chat la persona che ha questo sfondo ovvero Pala io non so se c'è in chat il signor Pala che mi può eh però vedi il Don't Touch My Phone che fa il giro e va uno Xiaomi vedi per me è importante allora purtroppo non riesco a vedere tutti 638 gli altri gli altri candidati della Forms Night però la Forms Night la facciamo spesso se avete qualche sfondo particolare che volete condividere con me io vi ricordo che me lo potete mandare su Instagram e noi ci vediamo dove quando basta che cringiata questa cosa che ho fatto mio Dio ragazzi adesso che siamo arrivati alla fine della live visto che sono le 22 posso farvi una domanda molto intima ma voi le piantate le ole grazie a tutti No.